Visto che il primo che ha denunciato i brogli elettorali pubblicamente per queste elezioni, anche prima delle elezioni, è stato Silvio Berlusconi, come mai lui non è sotto inchiesta e invece te e De Aglio siete sotto inchiesta? Questo mi sfugge un pochettino, questo metro di valutazione mi sembra un pochettino differente. E' bella domanda, domanda da 100 milioni, l'abbiamo fatta anche ai magistrati, almeno l'ho fatta io, e il magistrato mi ha detto, eh vabbè Berlusconi, come dire, boh, o ne dice tante, oppure l'interpretazione è lasciata, non lo so, alla vostra interpretazione, non si capisce se voleva dire, ne dice tante, oppure se voleva dire è intoccabile. Di sicuro è stato Berlusconi a dire queste cose, fra l'altro vorrei dire una cosa, che se questo film è stato fatto è grazie a Silvio Berlusconi, perché è stato lui che ci ha portato sulla pista e ci ha tenuto attaccati a questa pista, fin dall'inizio della campagna elettorale. Noi dobbiamo ringraziare solo lui. Come mai secondo te non è stato disposto il sequestro del film? Perché voglio dire, voi siete indagati per il reato 656 del codice penale, che sanziona con l'arresto, bla bla bla, perché state diffondendo notizie false, esagerate, tendenziose, alte a turbare l'ordine pubblico. Quindi viene da pensare per un comune cittadino, va bene, sequestriamo il film, perché se può dare queste problematiche, lo dobbiamo sequestrare, perché non è stato sequestrato. È sempre una bella domanda, forse dovreste parlare anche voi con i giudici, vediamo se vi raccontano qualcosa. Io immagino la seguente cosa, noi non siamo, così come ci è stato spiegato benevolmente dai due sostituti procuratori, noi non siamo indagati per il contenuto del film, siamo indagati per una frase che c'è sulla copertina del film, in cui si dice che le elezioni non sono state regolari. Il ragionamento che fanno i giudici è, voi dite così, la Corte di Cassazione invece ha detto che ha proclamato degli eletti, quindi ha stabilito che sono state regolari. Dicendo così, allarmate l'opinione pubblica su un fatto non vero, diciamo. Però la cosa meravigliosa è che noi diciamo questa cosa e nessuno, e l'argomentiamo diciamo, l'abbiamo argomentata nel film, abbiamo continuato a documentarla e argomentarla con l'ultimo numero di diario, l'argomenteremo nel prossimo numero di diario, e però nessuno di queste persone ci ha, diciamo così, cioè diciamo, non è stato fatto nessun atto istruttorio, cioè i giudici, noi siamo stati sentiti dai giudici come testimoni, e forse sarebbe stato più corretto, visto poi la contestazione, che ci hanno mosso il perché della contestazione, che ci sentissero subito come indagati, in modo che potessimo partecipare all'interrogatorio con i nostri avvocati, che potessimo avvalerci anche della facoltà, del diritto di non rispondere. Invece, insomma, l'impressione è quella che quando fanno queste cose, che ci tendono a tirare un po' un trappolone. Però noi ci troviamo nella condizione della persona che va a denunciare un furto, e che il commissario o il magistrato, anziché prendere nota della denuncia, mette in galera il denunciante. Nel diritto spesso si giustifica tutto. Come si diceva una volta, tot capita, tot sentenze. Tradotto molto così, tutto capita nelle sentenze. Non ti sembra che il giornalismo in Italia da un po' troppi anni sia un giornalismo embedded più che un giornalismo libero? Cioè che il giornalismo di inchiesta, quello che io reputo essere il giornalismo vero, sia un po' troppo sotto pressione da troppi anni. Ma io penso che in questa affermazione c'è molto di vero. Che non sia una colpa dei giornalisti, perché personalmente conosco un sacco di giornalisti, di persone che di inchiesta ne farebbero tantissime. La realtà è che purtroppo forse gli editori dei giornali hanno un'idea di giornale che non è quella come si suol dire anglosassone, cioè del giornale che vende perché è un buon giornale, perché fa delle buone inchieste, perché si fa leggere dai suoi lettori, ma sono giornali che vendono perché sono veicoli di gadget, piuttosto che di film, piuttosto che di enciclopedie, piuttosto cioè qualcosa che serve a veicolare altri prodotti che non hanno a che fare col giornalismo e soprattutto per me manca proprio il ruolo dell'editore puro, cioè di quello che ha passione. Noi fortunatamente Diario ha un editore puro che si chiama Luca Formenton, che è una bravissima persona, che lascia la massima libertà, che spesso magari non condivide quello che scrive il giornale, ma non ha mai messo Becco per censurarlo e che forse non ha dei grossi interessi e che non ha soprattutto interessi da difendere insomma. Non lo leghiamo quindi a questo stato di debilitazione della democrazia in Italia? Adesso io non vorrei essere esagerata nella valutazione, però mi sembra che la democrazia in Italia sia applicata in maniera un po' zuppicante. Beh certo una democrazia per essere viva, vitale, vegeta eccetera eccetera ha bisogno di un sistema continuo di controlli, di contrappesi e la stampa ha un ruolo importantissimo. La magistratura nella separazione dei poteri ha un altro ruolo importantissimo. L'opinione pubblica per noi ha un ruolo importantissimo e penso che in questi anni l'opinione pubblica in Italia abbia avuto un ruolo molto importante insomma, voglio dire a me fa piacere quando la gente partecipa, mi piace insomma, voglio dire mi fa piacere quando partecipano al mio film ma mi fa piacere anche vedere la gente che scende in piazza con Berlusconi. Cioè quando tutto questo si svolge in maniera ordinate eccetera eccetera però insomma voglio dire la gente fa sentire il proprio dissenso, il proprio consenso, la propria passione politica è molto importante perché quando cade tutto questo poi succedono le cose più brutte e in Italia insomma voglio dire questa delle elezioni è proprio la ciliegina su una torta enorme. Qualche sera fa l'onorevole Di Liberto dice, ha dichiarato pubblicamente durante una trasmissione televisiva che abbiamo rischiato e evitato insomma una sorta di colpo di Stato, tu cosa ne pensi? Sempre riferimento alle elezioni. Insomma le parole di Di Liberto mi trovano abbastanza d'accordo perché se è vero come noi crediamo che si sia tentato di imbrogliare le elezioni in un sistema che pur essendo diciamo come è in Italia proporzionale ma è allo stesso tempo maggioritario perché prevede sostanzialmente premi di coalizione e due coalizioni che si confrontano e questo si può chiamare anche un imbroglio elettorale, si può chiamare anche colpo di Stato cioè voglio dire se dovesse essere provato, quando mai sarà provato un giorno la nostra accusa penso che questa sia un'ipotesi di reato a cui i giudici possano pensare. Il giorno successivo alla lunga notte c'è stata la cattura di Provenzano Non ti sembra che questo stop nasca da un bisogno della mafia di riportare alcune energie se non tante energie al centro come sta comunque avvenendo a tutt'oggi? Ma guarda questo è un po' difficile da immaginare. Di sicuro la cattura o la non cattura di Provenzano o di sicuro la cattura di Provenzano prima o dopo le elezioni poteva avere un impatto molto forte diciamo sull'elettorato. La cattura di Provenzano 24 ore prima dell'apertura dei seggi e delle operazioni di voto forse avrebbe spostato voti da una parte o dall'altra probabilmente avrebbe portato acqua al mulino del governo. Sulla cattura di Provenzano si sono dette tante cose dunque la settimana scorsa la prima volta che abbiamo presentato questo film c'era a moderare il dibattito del vice direttore dell'Espresso il quale ha dichiarato pubblicamente quindi non svelo niente di segreto e ha detto che alla redazione dell'Espresso questa notizia circolava da giorni erano giorni che loro aspettavano la cattura di Provenzano. Noi abbiamo sentito un'altra fonte che qui preferisco non svelare eccetera eccetera però molto 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 autorevole che ci ha detto che addirittura il ministro degli interni che è stata un'operazione condotta dalla polizia dal capo della polizia Pansa in assoluta segretezza che addirittura il ministro degli interni non era al corrente sapeva come facciamo dire a Elio De Capitani alla nostra gola profonda sapeva di una grande operazione di polizia in corso forse poteva immaginarlo ma non aveva avuto una comunicazione ufficiale. Di certo su quell'episodio si è giocato molto si è giocato molto molto quella notte insomma cioè è uno dei tanti episodi è una di quelle cose insomma che poi lasciano beh uno stop c'è stato allora questa sera sto parlando alle 11.15 alle 23.15 del giorno 3 dicembre questa sera mi pare io non l'ho visto in diretta però mi è stata raccontata insomma abbastanza nel dettaglio da chi era lì alla trasmissione che l'onorevole Massimo D'Alema abbia messo alcuni puntini sugli in questa vicenda e uno dei tanti una delle tante cose che ha raccontato è il fatto che ad un certo punto ufficialmente il flusso dei dati si è fermato e che l'andamento della diciamo così l'andamento dei risultati elettorali ha subito delle modificazioni nel corso delle ore assolutamente spiegabili cioè si è partito con quel milione e mezzo di voti di vantaggio che il centrosinistra avrebbe dovuto avere per finire con un pugno di voti e Massimo D'Alema è una persona che è stata stasera accertenuto dirlo personalmente davanti al computer ed è stato quello che a un certo punto quando si è bloccata tutta la macchina ha dato ordine a Miniti di andare a vedere cosa stava succedendo scusate non vorrei andare per le lunghe ma vorrei fare una parentesi perché ci tengo allora sono contento che l'onorevole D'Alema abbia detto questa cosa che Miniti è andato perché quando ho raccontato ho detto di questa cosa ai magistrati di Roma la reazione è stata sapete no ma lei non sa perché l'onorevole Miniti è andato al Viminale ce l'hanno spiegato i funzionari del Viminale perché lui era candidato in Calabria e voleva sapere se era stato eletto o meno questa era un po' questa è stata la spiegazione che ci è stata data ma al di là diciamo di queste piccole divagazioni un po' spiritose diciamo la realtà è che l'onorevole D'Alema ha parlato di questo blocco dei dati di trasmissione dei dati che è una di quelle cose fra l'altro di cui avvertono gli informatici quando ti dicono occhio ai blocchi perché quando si blocca la macchina è il momento in cui si passa si procede a qualcosa e il blocco dei voti c'è stato uno stop c'è stato quindi questo è certificato per la storia uno stop a un certo punto c'è stato esatto grazie 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 a tutti